102 giocatori ancora ai tavoli quando ritorniamo dalla pausa cena dopo uno stop di un'ora per il riposo e il ristoro dei giocatori, 300-600 il livello dei bui quando invece l'ante sale a 50. Abbiamo anche un aggiornamento per quanto riguarda l'average stack, 37.000 circa il suo livello quindi vedete che comunque qualcosa inizia a muoversi, come avete visto dal chip count appena postato Sergio Castelluccio si è appena portato in testa al conteggio parziale delle chip, 120.000 per lui quindi abbondantemente sopra average circa 3 volte lo stack medio. Noi ci diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti dalla sala come sempre poco ritaglio web per il blog live dell'evento. Ciao a tutti!